Due vendamenti in Senato per evitare il disastro al comune di Comiso li ha annunciati il Ministero dell'Interno al Sindaco Spataro e al Vice Sindaco Gaglio nel corso delle varie interlocuzioni che i due amministratori comisani hanno avuto ieri a Roma. Il primo, che porta la firma della senatrice Padua, dà la possibilità alle nuove amministrazioni di risanare i bilanci in tre anni, a partire da quelle in cui è stato proclamato il dissesto finanziario. Il secondo abbassa invece da 60 a 20.000 abitanti la soglia per consentire a un comune il riequilibrio in tre anni. Non solo, se entrambi gli emendamenti, visto il caos politico di questi giorni, dovessero saltare, da Roma hanno assicurato che è già pronto un decreto ad hoc della Presidenza del Consiglio. Dunque si va avanti e si cerca di scongiurare lo scioglimento della civica assise casmenea prevista per legge dalla mancata approvazione dei bilanci. Intanto non è ancora arrivato a Comiso il decreto romano che impone all'ente 45 giorni di tempo per riequilibrare appena lo scioglimento del Consiglio. Da Roma nel frattempo è stato chiesto all'ente di andare avanti, la Giunta dovrà quindi approvare presto anche il Consuntivo 2013.